Non bastasse una riqualificazione che viene periodicamente rimandata a causa delle difficoltà strutturali al di sotto della pavimentazione, Galleria Roma continua pure a convivere col problema sicurezza, con bivacchi di senza fissa dimora ed episodi di ubriachezza più o meno molesta tornati all'ordine del giorno. Un problema silenziatosi un po' nei mesi scorsi, ma un problema che di fatto era stato solo spostato e che torna a ripresentarsi con residenti ed esercenti commerciali che lamentano la difficile convivenza gomito a gomito con questa compagnia poco raccomandabile. I disagi che ci creano purtroppo per loro perché sono dei, ci dispiace anche, perché sono dei disadattati, però creano disagio perché stazionano frequentemente quasi sempre dalla mattina alla sera in galleria e hanno il vizio del bere soprattutto, perciò abbiamo diverse fasi durante la giornata, dal mattino che sono abbastanza tranquilli però ha già la birra nelle mani, arrivi alla sera e ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, cioè sono successe anche situazioni sgradevoli dove si azzuffano, dove litigano, dove alzano la voce, disturbano. Posso dire che noi abbiamo un'attività commerciale e anche i nostri colleghi siamo tutti dispiaciuti di questo, non sappiamo cosa fare, abbiamo provate tutte, abbiamo fatto delle raccolte delle firme grazie anche al patrocinio gratuito dell'avvocato Tasini, Milena, che abbiamo fatto una denuncia querela praticamente, un esposto, non so come chiamarlo, presso le autorità, il prefetto, prefettura, questura, il sindaco, non abbiamo neanche avuto risposta, questo credo un anno scorso, un paio di anni fa. Che dire, è una situazione difficile. Una situazione che complica la quotidianità di chi lavora eppure il rapporto con la clientela. I clienti, posso assicurare che tutti quelli che entrano, la prima cosa che dicono, avete una bella compagnia qui davanti, ci sentiamo un po' in difficoltà, abbiamo anche paura, noi trattiamo preziosi, siamo gioieglieri, trattiamo l'oro, da noi vengono e hanno l'oro, non è che vengono per comprare le caramelle o la frutta, di conseguenza è una situazione, non so come dire, non va bene, non è che sono pericolosi, ma non si sa mai, io sono stato anche minacciato, ti sparo la vetrina, ti rompo la vetrina, per non dire mia moglie, ne dicono di tutti i colori, perché diventano anche invadenti, perciò non è che si limitano a stare lì e basta, diventano invadenti, diventano dei coinquilini, sinceramente si prendono anche delle libertà e delle confidenze che non è il caso, le forze dell'ordine le chiamiamo quasi tutti i giorni, vengono, fanno il loro dovere, non posso dire nulla assolutamente, soltanto che non possono fare più di tanto, li allontanano e loro dopo 5 minuti ritornano, cioè questa è la situazione.